Sovizzo, quarantenne minaccia moglie e figli con la pistola, i carabinieri lo arrestano. Maxi operazione antiprostituzione della squadra mobile di Vicenza ha sgominato un'organizzazione internazionale. Giornata della legalità, gli studenti del Barolini realizzano una panchina rossa contro la violenza. Covid, giro di vite a Natale, il sindaco nei mercatini solo con le mascherine. Premiato il Comune di Vicenza per le barriere fiorite proposte da Rete Veneta. Un cordiale buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TG Vicenza. Apriamo con la cronaca che ci porta a Sovizzo. Lo avete sentito, un uomo ha minacciato la propria famiglia con la pistola. Fortunatamente il peggio è stato evitato e il quarantenne arrestato dai carabinieri. Una pistola, a impugnarla un uomo che è padre, che è marito. Momenti di paura, attimi concitati a Sovizzo. Tutto succede in mattinata, nella quiete apparente delle mura domestiche. Sono le sette e mezza, quando un quarantenne minaccia la famiglia con una pistola. La moglie però non si fa scoraggiare. Con una telefonata al 112 allarma i carabinieri. Mentre i militari della compagnia di Valdagno stanno arrivando, la donna, approfittando delle condizioni di semincoscienza del marito, riesce a sottrargli la pistola e a fuggire con i bambini, mettendoli in salvo. Una prontezza di riflessi che evita che la situazione possa degenerare. Quando un uomo esce di casa per rincorrere i familiari, viene bloccato dai carabinieri. Non oppone resistenza. I militari entrano nell'abitazione e la perquisiscono, trovando anche una mazza da baseball e due accette che vengono sequestrate. Arrestato con l'accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e minacce aggravate, l'uomo è stato portato in carcere a Vicenza. Continuiamo con la cronaca per una maxi-operazione antiprostituzione condotta dalla squadra mobile di Vicenza. Abbiamo dovuto agire tempestivamente, chiaramente coordinandoci con la procura che ha emesso dei fermi di indiziato di delitto, perché le indagini hanno fatto emergere la necessità assolutamente immediata di dover procedere di arrestare il maggior numero possibile di questi associati. E proprio per un reale pericolo di fuga dei malviventi verso altri paesi europei è stato organizzato un vero e proprio blitz dagli uomini della squadra mobile di Vicenza che hanno così stroncato un'organizzazione criminale internazionale di sfruttamento della prostituzione. 15 persone sono state poste in stato di fermo, di cui 7 ancora ricercate, perché sfruttavano giovani donne di età comprese tra i 18 e i 30 anni. Le vittime agganciate in Romania, con promesse ingannevoli, una volta giunte a Vicenza venivano invece obbligate a prostituirsi a ritmi frenetici quotidiani, con la minaccia di ritorsione anche sulle famiglie di origine. I reati contestati oggi, in cui non abbiamo solo lo sfruttamento della prostituzione, ma abbiamo l'associazione del delinquere, il che ovviamente fa capire che sono reati molto più gravi volto allo sfruttamento della prostituzione e alla tratta di queste persone, ha comportato evidentemente tutta un'attività di carattere investigativo e di carattere con tutto quello che prevede il codice, quindi intercettazione di carattere ambientale, teletonico, appostamenti, pedinamenti, è tutta un'attività che nasce proprio, lo ricordavo prima, proprio durante il Covid. E proprio il lockdown totale, a seguito della pandemia, ha caratterizzato l'attività della banda criminale. Le ragazze, trattate come merce, venivano offerte solo su portali online. La consumazione, proposta in strada, imbarba gli orari vietati, ma anche prevista la consegna a domicilio con autisti fidati. Tre di questi italiani, due della provincia di Vicenza. In vista del 25 novembre, la mobile di Vicenza ci ha fatto un bel regalo con un'operazione contro lo sfruttamento della prostituzione, che oggi assume anche un valore simbolico. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto complimentarsi con la polizia per l'esito dell'operazione alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E dai fatti violenti, a delle invece iniziative contro la violenza, in questo caso contro la violenza di genere, perché gli studenti dell'Istituto Barolini hanno inaugurato, hanno realizzato una panchina rossa, simbolo delle giornate della legalità. Questa è una panchina rossa, è il coronamento di una giornata di formazione, proprio in virtù della giornata internazionale sulla violenza sulle donne e anche contro le stereotipie di genere. È una delle iniziative anche, tra virgolette, rare, perché in genere ci si rivolge sempre alle scuole secondarie di secondo grado, scuole superiori. Invece parlarne in un istituto comprensivo è importantissimo perché abbracciamo bambini dall'età di 3 anni all'età dei 14 anni, quindi in fase di crescita. E sono proprio i ragazzi a svelare questa panchina rossa, la prima a Vicenza in questa scuola che vuole essere anche scuola di legalità. Qui non c'è posto per la violenza, ma solo cultura del rispetto, è la frase che è stata impressa. Per dire no a tutte le forme di violenza, con un pensiero speciale rivolto alle donne, attraverso una rosa deposta al ricordo delle vittime. Un grandissimo applauso a questo istituto che mette oggi anche un simbolo importantissimo nella panchina, per cui ogni giorno tutti si ricorderanno che c'è questo grandissimo tema su cui dobbiamo maturare tutti. Io mi auguro proprio che ci sia veramente, concretamente questa sinergia tra le forze dell'ordine che in questo momento mettono in campo tutte le loro energie, sia attraverso le app, io ricordo l'app YouPoll, attraverso la quale si può collaborare con le forze dell'ordine per segnalare episodi di violenza, e anche il numero 1522, che è il numero antiviolenza. Questi ragazzi possono essere i portavoce di questi canali. Queste generazioni che prenderanno in mano la società tra molti anni abbiano quella scintilla, quella volontà di migliorare alcune situazioni che non stanno funzionando. Tra questo è proprio quello della violenza sulle donne che purtroppo ha creato, soprattutto in questi ultimi tempi, veramente un panico nella società. Sono troppi, queste violenze non possono essere giustificate. Un'automobilista investe un ciclista e poi si dilegua nel nulla. La vittima è un cittadino a straniero. Finito in un fossato succede all'Onigo. L'Onigo sono le 5 e mezzo del mattino. È ancora buio quando in via Preon, lungo la strada verso Alonte, un uomo di 43 anni, di origine straniera, si reca al lavoro in bicicletta. Il rumore di un'auto in lontananza che si avvicina, poi la botta. L'uomo viene travolto, sbalzato in un canale di scolo pieno d'acqua. L'investitore fugge. A trovare lo straniero immerso dentro all'acqua sono alcuni passanti. Si fermano, prestano i primi soccorsi, allertano le forze dell'ordine. I vigili del fuoco arrivati dall'Onigo lo tirano fuori dall'acqua e lo affidano ai medici del SUEM 118 che lo portano in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente e per individuare l'investitore. E adesso la pagina sul Covid. I contagi continuano a salire in Veneto, in special modo proprio nel Vicentino. Oggi c'è stato un incontro molto importante in prefettura. L'epidemia ringhia in tutto il mondo. Il Covid è tornato a far paura. L'emergenza sanitaria si riflette sulla scacchiera politica e il governo è chiamato a fare una contromossa. Mercoledì a Roma si riunirà prima la cabina di regia e poi il Consiglio dei Ministri per stabilire le nuove misure antipandemiche. Sul tavolo dall'obbligo della terza dose per il personale sanitario a un giro di vite sul Green Pass anche in zona bianca. A Vicenza in prefettura stamattina si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza ma ancora nulla di fatto in attesa che sia il governo a decidere quali provvedimenti adottare per arginare la risalita dei contagi. Oggi il Comitato Ordine e Sicurezza ha preso atto che il governo sta valutando una serie di misure tra cui anche il rafforzamento del Green Pass e capiremo nelle prossime ore se ci sarà anche un obbligo di mascherina rispetto ai mercati, diciamo quelli nel Natale e in particolare nei centri cittadini. Ciò che è certo è che quello in arrivo sarà un Natale a tiratura limitata con libertà per tanti ma non per tutti. A Vicenza non sono previste feste di piazza per il Capodanno, proprio per evitare assembramenti. Il governo sta studiando limitazioni in particolare per i non vaccinati che con il tampone potrebbero accedere solo al Green Pass per il lavoro ma non per cinema, teatro, sci, alberghi e ristoranti. Queste sono ipotesi ma al momento non si possono scartare. Di sicuro ci sarà massima attenzione al rispetto di tutte le forme di sicurezza sanitaria con il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che è pronto a firmare un'ordinanza che obbligherà a usare le mascherine nei mercatini di Natale. Non possiamo far finta che a Vicenza ci sia un problema di contagio molto alto. Vicenza è tra le province con i dati più pesanti in termini di contagi Covid e quindi dobbiamo tutelare la salute pubblica prima di tutto. Quindi ci sarà la possibilità di frequentare il centro storico e i mercatini natalizi e le iniziative natalizie, però allo stesso tempo ci sarà questo sacrificio da fare di utilizzare durante quel periodo la mascherina. Qualora il governo non dovesse intervenire lo faremo noi con un'ordinanza con decorrenza 3 dicembre, verosimilmente, cioè dall'inizio dei mercatini fino alla fine delle festività natalizie. Grazie a queste misure preventive si avrà la possibilità di avere un Natale aperto e quindi poter frequentare anche i mercatini natalizi. E le misure restrittive o le ipotesi previste dal governo in vista del Natale fanno discutere nel bene e nel male. Noi oggi siamo andati a chiedere cosa ne pensano i cittadini. Alla fine dobbiamo farlo per il bene della comunità. Capisco magari alcune argomentazioni sulla libera scelta, però in questo momento dobbiamo pensare che siamo in una situazione straordinaria e quindi ci vogliono anche delle misure straordinarie e durante i mercatini, nei luoghi affollati, la mascherina la usiamo per proteggere noi stessi e per gli altri. Il timore per la recrudescenza del virus convince i vicentini che oggi abbiamo sentito sull'opportunità dell'uso delle mascherine all'aperto nei luoghi affollati per Natale. Ma non solo. Il giro di vite previsto dal governo a breve sul Green Pass rinforzato non solo è auspicato, ma è atteso proprio per convincere chi ha scelto di non vaccinarsi. Condivido perfettamente. Green Pass rinforzato? Certamente. E quindi anche un giro di vite verso i Novax? Magari renderli un attimino un po' più responsabili in questo senso, però finché non è obbligatorio in realtà. Le mascherine all'aperto per Natale? Sì, per me sì. Nei luoghi affollati sì, nei luoghi affollati sì. Ce l'ho sempre in tasca, adesso è un momento che non ce l'ho perché logicamente siamo all'aperto, sono da solo, però sono d'accordo anche per le mascherine. Dobbiamo cercare di uscire al più presto e cercare di tutelarci tutti per la nostra salute. Io sono d'accordo sinceramente comunque come misura perché alla fine dobbiamo vaccinarci per la comunità, anche non solo per noi stessi. Le mascherine per Natale, i mercatini per esempio? Mascherine sempre, mascherine sempre. Finché perdura l'emergenza io direi sì. Piuttosto di non chiudere, anche le mascherine sì, perché no? La cosa più corretta sarebbe però che il vaccino fosse in qualche modo reso obbligatorio e avere fiducia anche nella medicina e non su strane idee. Io vado, sto già scritta per la terza. Purtroppo tutta la mia famiglia si vaccina e nessuno di noi avrebbe voluto vaccinarsi perché purtroppo un vaccino, ok, dà fastidio a tutti, però io sono convinto che questo ci aiuterà a uscirne fuori. Sono delle misure che uno deve adottare per provocare una reazione. Non piace, non è che uno sia felice di obbligare, però veramente siamo in una situazione limite. Premiato il Comune di Vicenza per le barriere fiorite in centro storico al posto delle barriere antiterrorismo. Una soluzione proposta proprio da noi di Rete Veneta. Devo però ringraziare Rete Veneta perché ricordo che l'idea originaria venne da Rete Veneta e insomma è stata realizzata, quindi è una soddisfazione di tutti. Oggi l'idea lanciata da Rete Veneta riceve il premio della manifestazione Vicenza Fiorita, il concorso che ogni anno valuta gli allestimenti floreali più belli della città del Palladio. Il riconoscimento speciale va alle fioriere che hanno sostituito le barriere antiterrorismo. È una vittoria della bellezza per il centro storico, i commenti sono assolutamente positivi perché insomma un vaso fiorito è certamente più bello di un blocco in cemento. Al di là dei premi, la vera vittoria c'è stata a luglio quando dopo anni di ripetute insistenze da parte di Rete Veneta al fianco dei Vicentini e i New Jersey di cemento armato sono stati finalmente sostituiti con vasi pieni di fiori nei 18 varchi di accesso al centro storico. Il premio di Vicenza Fiorita quindi è la dimostrazione che anche da un'esigenza come quella della sicurezza antiterrorismo possono nascere opportunità per abbellire la città. E al secondo premio tra l'altro che prendiamo ad autunno furono premiati i ponti. Dunque dopo il premio per i fiori sui ponti adesso arriva il riconoscimento per le barriere antiterrorismo e allora noi di Rete Veneta anticipiamo quella che potrebbe essere la prossima iniziativa vincente. Gli stemmi fioriti di Vicenza da realizzare davanti alla stazione, in piazza Matteotti in prossimità del teatro olimpico e nei rondò posti negli accessi a est e a ovest della città. Ora tocca al comune attivarsi. Ah sì sì, io la porto, la propongo al verde pubblico, proviamo a lanciarla perché devo dire che è una gran bella idea. Bene, la sfida è raccolta dal comune. Allora noi attendiamo di vedere gli stemmi fioriti in città. Se saranno ben realizzati potranno essere candidati al premio della prossima edizione di Vicenza Fiorita. Ma questo lo vedremo solo vivendo. Dunque la questione non finisce qui ma continua. E allora magari in attesa di vincere un altro premio per gli stemmi fioriti, noi ci salutiamo perché finisce qui questa edizione di TG Vicenza. Prima però di congedarci andiamo a scoprire insieme la programmazione serale di Rete Veneta. Dopo di noi andrà in onda Sport in Casa, una puntata dedicata al settore giovanile dell'Union Eurocassola. Quindi parleremo di tutte le novità che riguardano i baby calciatori. Poi alle 21.15, appuntamento imperdibile con Focus, scopriamo insieme gli ospiti di questa sera che sono Paolo Benvenu, Anna Maria Bigon, Marco Brigo, Lavinia Colonna Preti, Alberto De Franceschi, Elena Donazzan, Settimo Gottardo e Leonardo Padrin. Io vi ringrazio per aver scelto anche questa sera l'informazione di Rete Veneta. Vi auguro una buona serata e vi lascio al meteo.